Anche della semplice zola di zucchero, adesso in questo momento non sarei in grado di dargli un prezzo. Visto, messa qua, sulla zuccheriera, con tutto il bar acceso, con tutta la strumentazione accesa, se avevo un costo fino a due mesi fa di X, adesso non saprei dargli più un costo. Colazione più amara per gli italiani. Da ormai due settimane, bar e caffetteria hanno ritoccato i prezzi delle consumazioni, sia al bancone che al tavolo. Ultimi a ricorrere agli aumenti, dopo i panifici e le pasticcerie, sono i baristi anche della provincia di Pesero-Urbino che hanno dovuto modificare i listini. A deciderlo sono stati gli stessi operatori che aderiscono alle associazioni confesercenti, confcommercio e CNA, in una riunione unitaria della categoria. La motivazione sta nell'aumento dei costi generali e in particolare di quelli di luce gas praticamente raddoppiati. A questi si aggiungono i rincari delle materie prime, come caffè, latte e cacao, che stanno mettendo in crisi l'equilibrio fra costi e ricavi del settore, il prezzo delle consumazioni rimane comunque libero in base a quanto stabilisce l'autorità garante per il mercato e la libera concorrenza. Infatti le associazioni di rappresentanza non possono in alcun modo condizionare o dirigere le scelte degli esercenti. È una situazione veramente direi assurda, perché adesso il nostro lavoro è praticamente bersagliato da rincari, da prezzi diciamo all'impazzata. Siamo stati appunto colpiti, uso il termine colpiti perché mi sembra proprio la parola più giusta, dal primo di gennaio con i rincari nel nostro settore, a partire dal caffè, dal latte, dalle farine, tutto quello che quindi è inerente ai dolci, ai salati che proponiamo la mattina nelle nostre colazioni. Con rincari dal 20 al 30%, grosso modo. E adesso, dulcis in fundo, c'è anche la mazzata delle utenze, che quindi vanno ad incidere enormemente sulle nostre gestioni, sul nostro conto economico dei bar. Quindi ha proseguito Tars, il responsabile di CNA Bar, per garantire lo stesso servizio e la stessa qualità dei prodotti e per sostenere le nostre attività, dobbiamo necessariamente rivedere i listini. Che in questo momento si fa anche fatica a dare un prezzo alle cose, perché i prezzi sono talmente schizzati alle stelle, come poi si parla anche questi giorni. Stamattina sentivo in televisione l'utenza come la potrebbe essere l'energia elettrica, il primo trimestre c'è un aumento del 135%. Già solo questo, figuriamoci noi che stiamo qui dalla mattina a proporre un servizio, qual è la colazione, tenendo illuminato tutto il sistema, sì, l'aumento del 20%, del 30% ci sta, ma sul rapporto anche alle altre utenze, alle altre costi che ci vengono a gravare, a questo punto anche noi non sappiamo come risolvere questa cosa, perché siamo veramente all'estreno delle forze. Poi, aggiunto Tarsi, ha inciso anche la pandemia, con la carenza di personale e con l'affluenza in calo tra quarantene e isolamenti. Ora, specificato, questi rincari vanno al di là di ogni negativa previsione e non riusciamo a venirne fuori. Chiaramente sul caffè ha un'importanza maggiore, una rilevanza maggiore e anche una risonanza maggiore, però questo l'abbiamo fatto su tutti i nostri articoli, perché altrimenti da qui a due, tre, quattro, sei mesi qui la situazione è veramente drammatica, non è né grave né difficile, è veramente drammatica.